Marco, partiamo da questi primi tre punti. Finalmente il campionato incomincia a sorridere alla Samp. Sì, ci voleva questa prestazione da parte della squadra, eravamo carichissimi. Abbiamo interpretato benissimo questa partita che era importantissima. Faccio complimenti a tutti i miei compagni e al mister. Di primo tempo che si è sviluppato sulla falsariga delle ultime prestazioni, con tante occasioni create, un ottimo gioco, però non si riusciva a segnare. Sì, purtroppo abbiamo questo limite che forse per un po' di sfortuna non siamo riusciti a buttarla dentro, però eravamo sempre aggressivi, eravamo sempre lì davanti alla porta. Loro hanno creato due o tre occasioni, abbiamo lasciato pochi spazi. Secondo tempo abbiamo concretizzato di più e è andata bene. Non è un caso che prima del gol a Sud abbiamo cominciato a rumoreggiare in maniera molto più pesante che quanto sia successo nel primo tempo. Vi ha aiutato molto? Sì, ci ha aiutato molto. Loro sono un pubblico spettacolare. Dobbiamo tutto a loro e noi giochiamo molto anche per loro. Quanto ha influito il risultato positivo di giovedì su quello di oggi? Sicuramente ci ha dato morale. Abbiamo vinto una partita a Belgrado che non era facile. Chiaramente abbiamo risollevato un po' la testa e oggi siamo entrati in campo con l'energia giusta. Riguando la tua prestazione personale oggi Marco, hai fatto molti chilometri come l'Aldi Consueto, però anche qualche bel dribbling, il pubblico ha apprezzato. Sì, sono contento. Sono sempre teso prima delle partite. Era importante non sbagliarla da parte mia e come da parte della squadra. Sono contento così e alla fine il risultato è quello che conta. Sono contento di aver fatto felici i tifosi. L'ultimo adesso si va a Roma, già mercoledì, quindi c'è di nuovo poco spazio per respirare. Sì, una Roma sicuramente guerrita, ha perso oggi. avranno veramente la carogna, come diceva mio ex mister Iachini. Pietro Caldi, 2-0, possiamo dire crisi passata, se c'è mai stata. Non eravamo in crisi, eravamo solo un po' sfortunati per i risultati che venivano. Però abbiamo sempre giocato delle buone partite, anche Milano. Gli episodi però non ci hanno aiutato. Oggi abbiamo dimostrato ancora una volta che stiamo comunque da un po' giocando bene. Oggi abbiamo raccolto i frutti giusti. Non so che fisicamente è sempre stata bene, è una novità anche oggi. Ma oggi, come dicevi tu, l'episodio di Del Vecchio, ad esempio, ha fatto girare bene la partita. Sì, infatti. A volte le partite a fare da padrona sono gli episodi. Oggi sono venuti a favore. Però è da un po' che ci meritavamo tutto questo. Credo che oggi abbiamo creato molto e abbiamo rischiato poco. Quindi il risultato è giusto, anche se ci poteva essere qualche gol in più. Però l'importante è che alla fine abbiamo portato a casa i tre punti. L'importante è che non avere subito gol oggi, da convinzione alla difesa, che comunque anche senza alcuni titolari sta facendo molto bene a diverse partite. Sì, ma è così. Nel senso che chiaramente la soddisfazione più grande è non prendere gol per noi difensori. Poi qui si gioca ogni tre giorni, quindi tutti siamo titolari e tutti siamo a disposizione del mister. È chiaro che ognuno di noi vorrebbe giocare con continuità, però visto che ci sono molte partite è giusto dare spazio anche ad altra gente. Tu hai parlato di partite ravvicinate. Ora si va già a Roma mercoledì. Una Roma che è sicuramente in difficoltà. Se era difficile quella partita, ora sarà anche più difficile per voi. Sì, tutte le partite come lo hanno dimostrato anche quelle passate sono difficili. Purtroppo il campionato è bello anche per questo ed è giusto che sia così. Chiaramente sarà una Roma agguerrita, però in questo momento ci godiamo questo risultato e da domani cominciamo a pensare alla Roma. L'ultima domanda, quanto vi ha aiutato sia la vittoria di giovedì che l'aiuto del pubblico oggi? Tantissimo. Il pubblico per noi è molto importante, specialmente questo che ci ha sostenuto anche nei momenti difficili. Quindi ci seguono ovunque e noi li possiamo ripagare con i risultati positivi. Mirko, partiamo dalla prima vittoria in campionato della Samp che è a lontano un momento difficile per voi. Oggi era veramente importante la partita perché la situazione di classifica non era bellissima. Avevamo una partita alla nostra portata e abbiamo approfittato. Abbiamo preparato bene, eravamo stanchi dalla partita che abbiamo fatto in settimana in Coppa UEFA, però visto che se le cose si fanno tutte insieme, con voglia, alla fine i risultati arrivano. Partita che quella di giovedì vi ha portato sicuramente stanchezza, ma anche tante motivazioni dopo la grande impresa che avete fatto. Sì, diciamo la vittoria di giovedì ci ha risollevato un po' di morale perché era una squadra tosta e soprattutto anche perché ci siamo impegnati e abbiamo fatto una grandissima figura a livello europeo. E questo sicuramente ci ha dato una mano. Sì, Mirko, parliamo della tua percezione personale. Dopo sette minuti hai avuto subito la grande palla goal per sbloccare la partita. Come è andata? Beh, niente, lì è stato bravissimo Antonio che mi ha fatto il velo e non l'ha nemmeno toccata perché forse era anche in fuorigioco. Poi mi sono ritrovato da solo davanti al portiere e non ho visto in mezzo se c'era qualcuno, sinceramente. Però mi sembrava di nuovo, era in ritardo, ho provato a tirare e mi è andata male. Insomma, la maledizione del gol per te con la maia abducerchiata continua. Nel finale hai anche provato a sorprendere Antonio su primo pallo, se lo non ho visto male. Sì, va bene, no, ci ho riprovato, però diciamo l'importante era la vittoria, poi il gol. Se continuo a trovarmi davanti alla porta, prima o poi lo farò. Senti, mercoledì si va a Roma, una Roma che oggi ha perso 3-1 ad Udine, quindi una Roma in difficoltà. La Samp invece ora sta un po' meglio, però sarà una partita molto molto difficile per voi. Sinceramente i risultati non ne so, ho perso la Roma, mi dici, 3-1. E va bene, troveremo una Roma un po' in difficoltà in questo momento, però sappiamo benissimo che è formata da grandissimi giocatori. Il campionato che ha fatto l'anno scorso è stato fenomenale, è un gioco particolare. Speriamo di metterla in difficoltà in qualche modo, però comunque se continuiamo a fare come oggi, impegnarsi, i risultati arrivano. Senti Mirko, l'ultima, possono essere questi quattro giorni della svolta per la Samp? Io spero di sì, però più che svolta parlerei anche che siamo riusciti a segnare, perché poi il gioco, bene o male, dall'inizio del campionato c'è sempre stata. C'è mancato l'ultimo passaggio, ci mancava solo il gol che oggi giustamente poi sono arrivati.